Oh adesso Mario ti interessa? E per tutti i fan come si chiama? Interessa ai fan? Si interessa XXX Però non lo so se lo possiamo fare coi De Angelis Perchè non è satanista Che ne pensi Mario? O te lo decanto? Decantalo, forza! Ok Fin da bambino son cresciuto a quel film porno Quelli illegali, wow! Quelli di da scuola Animal fetish sadomasio e outdoor Pugnetta, manetto, guacchio e tramur Ah porco dio quando mi vuoi Naccia, madonna, manaccia Di funnette, di funnette, di funnette, di funnette, mi ammazzo Ma se te mi imbarazzo Io è stramurto Di funnette, di funnette, di funnette, mi ammazzo Ma come un ragazzo ti vuoi fare Atticare e accampare sei quasi un animale Vedi? Stai proprio nell'ottica De Angelis Perchè poi il mio contributo sulla demenza pure è infinito Con i titoli stronzate nei testi eccetera eccetera Quello che è grande Stefano, quello che ci stai dentro Sei il sesto De Angelis Fai così Grazie a tutti Grazie a tutti